Una proposta di legge di iniziativa dell'ufficio di presidenza per una collaborazione tra l'Assemblea regionale della Toscana e altre assemblee regionali nel mondo. Sì, finora le relazioni internazionali. Il Consiglio regionale sostanzialmente non l'aveva affrontato se non per visite e incontri di convenevoli. Rapporti che siano dedicati all'identità e alla cultura di legami che si creano ma anche a possibilità di scambi da un punto di vista economico e sociale. Cosa significa? Spese? Dirà il cittadino. Assolutamente no. Significa creare quelle condizioni perché il nostro sistema culturale, economico e sociale abbia dei rapporti privilegiati con realtà che nel mondo vogliono vivere questo legame con la Toscana. Il primo sarà un rapporto che instaureremo con la delegazione della Duma di Mosca. Verrà il 9, 10 e 11 marzo. Noi riteniamo che ad esempio in questo caso si tratti di un legato di amicizia particolarmente importante in una fase in cui c'è da scongelare i rapporti, soprattutto per il sistema economico toscano e il mondo dell'est. Contemporaneamente abbiamo già parlato con il sindaco di Reims e voi capite come la regione della Lorena possa trovare un legato di amicizia naturale con la Toscana. E poi una ulteriore prospettiva può esserci con il rinnovo di un legame che c'era ma non codificato come legato che è quello con la regione del governo naturato di Chioto in Giappone.